L'esagerazione è una componente del vivere di oggi. Si esagera con il cibo, si esagera con la conflittualità politica, ma anche con quella familiare. Si esagera nel mondo del lavoro dove i fannulloni dominano e magari fanno carriera. Si esagera nella scuola dove da una parte c'è l'assismo frenato e dall'altra troppa severità. Ed è proprio della scuola che oggi vogliamo parlare. La scuola vista sotto l'aspetto prettamente educativo, non dell'organizzazione in sé o delle troppe strutture faticenti. Molti, quelli che sono figli del dopoguerra, ricorderanno una scuola non certo permissiva, rigide in molte delle sue forme. Si metteva il grembiule nero-azzurro con tanto di fiocco per le elementari, poi alle medie nessuno sfoggiava abiti firmati e nessuno era omologato a nulla. Poi c'era la disciplina, il voto in condotta che metteva a rischio il profitto come una spada di Damocle che poteva cederti e caderti sulla testa da un momento all'altro. E c'era severità. Se la maestra o il professore vergavano sul diario la classica nota di demerito, erano problemi al ritorno a casa. Le famiglie difendevano gli insegnanti e gli alunni e gli studenti, anche se innocenti, non avevano molte possibilità di difesa. Come non ricordare le tirate di orecchie, a volte in maniera affettuosa, della maestra. I tanti minuti passati in castigo dietro alla lavagna. Erano momenti difficili, ma sempre superati, insuperabili. Chi vi parla è mancino, ho difetto qualità, non ho mai capito con certezza che cosa proprio significhi se non è lo stesso scrivere con la destra o con la sinistra. Ma l'unico ricordo non certo bello che ho è che alle elementari mi costrinsero con maniere non certo delicate ad usare la destra, perché la suora andava a scuola e dalle suore sosteneva che la sinistra era a mano del diavolo. Chissà perché del diavolo. Alla suora, che era tra l'altro imperiese, si vedeva che preferiva la destra. Così imparai a scrivere, seppur male, con la destra e fare tutto il resto con la sinistra. Nessuno protestò, non ero solo l'unico, non ero l'unico ad essere costretto a quella tortura. Genitori snaturati? Ci sponiamo la domanda, ma non mi sento di dirlo anche se quella suora ancora adesso non la ricordo certo con affetto. E tanti fatti tornano alla mente di fronte alla notizia giunta da Oristano, dove in una scuola media è scoppiato il finimondo perché la professoressa di italiano ha diviso la classe in bravi e asini. E perché infliggere punizioni sembra diventato un reato, anzi lo è diventato. Infligge punizioni severe mettendo i bambini non dietro la lavagna ma con la faccia rivolta al muro. È il classico castigo. Ora la professoressa è indagata per abuso di metodi di correzione. Esagerazione? Non ci sentiamo di dare una risposta? Siamo in evidente difficoltà? E allora torna subito in mente la suora, quella che odiava tanto la sinistra e cosa sarebbe successo fosse ancora viva ed insegnasse? L'arresterebbero subito. Ma viva la democrazia e la possibilità di denunciare per vedere se saltarà fuori una condanna o una soluzione.